Al via la campagna vaccinale 2016-2017. Anche quest'anno sarà associata la distribuzione di vitamina D3 agli ultra 65 anni, vaccinazione gratuita contro lo pneumococco per i nati nel 1951. Tutti gli ultra 65 anni e le persone che appartengono alle categorie a rischio potranno rivolgersi al proprio medico o pediatra di famiglia per vaccinarsi gratuitamente contro l'influenza stagionale. Chi invece non appartiene alle categorie che hanno diritto alla somministrazione gratuita e desidera comunque vaccinarsi può acquistare il vaccino direttamente in farmacia. Intanto nelle settimane scorse l'ASL Toscana Sud-Est ha iniziato la distribuzione di circa 160.000 dosi di vaccino di cui oltre 63.000 ai medici e pediatri di famiglia della provincia di Arezzo. Il periodo giusto per vaccinarsi infatti è il mese di novembre considerando che il vaccino diventa efficace dopo circa due settimane dalla somministrazione e i picchi influenzali si verificano di solito tra la fine di dicembre e i primi di febbraio. Vaccinarsi è un gesto di responsabilità spiegano i medici dell'ASL verso se stessi e gli altri. Invitiamo i soggetti a rischio dicono ma anche chi svolge attività di pubblico interesse, chi sta al pubblico, chi sta in contatto costante e avvicinato con altre persone a rivolgersi al proprio medico e a vaccinarsi. Ad oggi il vaccino rappresenta il modo più efficace per prevenire l'influenza stagionale e le sue complicanze considerando che ogni anno in Italia questa patologia causa circa 8.000 morti, l'84% dei quali ultra 65 anni ed è la terza causa di morte.